Ecco il nuovo Consiglio regionale d'Abruzzo, la luce della proclamazione degli eletti comunicata agli uffici del Consiglio regionale stamane alle 12.40, dai funzionali della Corte d'Appello dell'Aquila, che non ci sarebbero state sorprese e lo aveva già annunciato un dati G. Il Consiglio è composto da 31 consiglieri, 18 della maggioranza di centrodestra, 13 delle minoranze, Marco Marsiglio, fratelli d'Italia, il Presidente e candidato del centrodestra, proclamato Presidente della Regione, il candidato Presidente del centrosinistra Giovanni Lennini e 29 consiglieri, tra cui Sara Marcozzi, candidata del Movimento 5 Stelle alla Presidenza, giunta terza ed eletta come candidata nella lista provinciale di Chieti. La maggioranza di centrodestra è composta, 10 seggi dalla Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 Azione Politica, 1 Udc. Alla minoranza aspettano 13 seggi, 7 al Movimento 5 Stelle, 5 al centrosinistra, di cui 3 PD, 1 la lista Lennini Presidente, 1 la lista Abruzzo in Comune Regione Facile. La maggioranza, capeggiata dal Presidente Marco Marsiglio, è dunque così composta. Per la Lega, Nicola Campitelli, Manuele Marco Vecchio, Sabrina Bocchino, Emanuele Imprudente, Angelo Simone Angelo Sante, Vincenzo Dincecco, Nicoletta Verì, Pietro Guaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio. Forza Italia, Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, Umberto D'Annuntis. Fratelli d'Italia, Guido Quintinoliri, Seguerino Testa, Udc, Marianna Scoccia, Azione Politica, Roberto Sant'Angelo. La componente di minoranza del centrosinistra, guidata dal candidato Presidente Giunto II, Giovanni Lenini, è la seguente. Per i PD, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe. Lenini Presidente, Amerigo Di Benedetto. Abruzzo in Comune Regione Facile, Sandro Mariani. La minoranza è completata dai sette consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri Sclocchi, Domenico Pettinari, Barbara Stella, Giorgio Fedele, Marco Cipolletti.